Contro le trivelle nei mari italiani, uniti in movimenti partiti e giovani in prima linea per cambiare le politiche industriali del governo e salvaguardare il sistema itico, pesca e turismo. Gli ambientalisti chiedono il 17 aprile di votare sì per abrogare la legge vigente in ambito nazionale. Noi lanciamo un appello oggi a intensificare l'azione che vede uniti tanti cittadini, movimenti e anche i partiti che con coraggio hanno voluto dire la loro e si sono voluti spendere a favore del sì e quindi contro le trivelle. E' un referendum che soprattutto vede in prima linea i giovani e questa è un'altra testimonianza che oggi noi raccogliamo con grande favore e con positività. I giovani sono consapevoli, non è vero che i giovani sono lontani dalla politica, i giovani sui temi che vanno a vantaggio della collettività, degli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini, i giovani sono in prima linea in questa vicenda. Quindi noi siamo con loro e siamo con chi vuole cambiare il modello di sviluppo italiano.